ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi se vi piace questo video lasciatemi sotto nei commenti un cuore grazie prima di inserire voglio presentare qualche prodotto dalla marca slavianca i prodotti sono arrivati impacchettati molto bene il packaging era molto bello i colori sono abbastanza coprenti qualcuno copre da un singolo strato i prodotti che mi sono piaciuti di più sono questi i top coat senza dispersione sono bellissimi i colori del gel sono molto belli il prodotto non cola la densità del prodotto è abbastanza alta unico difetto e che bruciano tantissimo uso la matita per segnarmi la posizione della scritta con paint nero senza dispersione disegno sopra unico difetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Copro con top mat solo i disegni intorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Divido l'unghia in due per posizionare meglio il disegno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.